Come diceva Mattias, è il compito di dare il contesto ed entrare un pochino più nel dettaglio di quello che abbiamo visto durante questa carovana. Come già citava Mattias, la carovana è durata circa una decina di giorni, è stata una carovana internazionale, per cui una carovana partecipata sia dalle popolazioni indigene, le stesse popolazioni indigene che in questo momento stanno effettivamente resistendo ai due grandi megaprogetti in corso di costruzione in questo momento in Messico, ma anche partecipata da una fortissima delegazione internazionale, il cui compito era quello proprio di supportare questa carovana che voleva, come dire, riuscire a unire tutte queste popolazioni, tutte queste comunità che stanno subendo attraverso lo stesso progetto tutta una serie di processi di espropriazione e di spogliazione appunto di quello che sono le loro risorse e i loro territori. Appunto, due grossi progetti di cui andrò a spiegare meglio nel dettaglio in seguito, che sono appunto il Corridor Interosseanico e il Trenmaya, che si inseriscono all'interno di quella che è definita la quarta trasformazione del Messico, ovvero una idea di modernizzazione e di progresso di stampo fortemente capitalista e neoliberale, che si inserisce anche all'interno di un cambiamento poi di quella che è la geopolitica del mondo, con tutte le, effettivamente le vicende che ben sappiamo sono successe anche negli ultimi anni, e chiaramente una modernizzazione che si basa sulle necessità di chi? Di quello che sono tutto, di quello che è effettivamente il mondo del capitalismo appunto, e che vede chiaramente l'indigeno, le popolazioni indigene come sacrificabili, le popolazioni e i loro territori appunto. Sono due progetti, inizio un po' narrando quello che è il Corridor Interosseanico. Il Corridor Interosseanico è un progetto che andrà a posizionarsi nell'istmo di Tehuantepec, che è la parte, come dire, più sottile del Messico, dove appunto si incontrano Oceano Atlantico e Oceano Pacifico. Il Corridor Interosseanico, in cosa consiste? Consiste nel potenziamento dei due porti che si trovano appunto ai due estremi dell'istmo, consiste nel potenziamento di una raffineria già esistente e nella costruzione di una nuova raffineria, consiste nella creazione di un nuovo gasdotto, un gasdotto che dovrebbe trasportare, che trasporterà quel gas liquefatto che viene prodotto dal fracking in America per portarlo poi nel Sud America e verso l'Europa. Questo chiaramente anche in risposta a quella che è la guerra in Ucraina e lo stop dell'importazione del gas dalla Russia. Quindi anche in questo vediamo effettivamente un progetto di ristrutturazione dell'economia globale e della movimentazione delle merci, in questo caso del gas. Però si parla anche della costruzione di un treno, si parla dell'ampliamento della strada che collega le due parti opposte dell'istmo, questo chiaramente di nuovo per riuscire a spostare le merci sempre più velocemente, quindi unendo di nuovo queste due parti del globo. E a questo si aggiunge anche una costruzione amplissima di centrali a energia eolica, questo perché appunto per poter poi effettivamente andare ad alimentare tutto quello che si vuole costruire. Quindi anche qui vediamo come l'energia eolica, questa energia, come ben sappiamo tutti quanti, descritta come un'energia green, l'energia sostenibile, è in realtà utilizzata in questo caso per andare ad alimentare ancora più sfruttamento del territorio e spogliazione anche delle popolazioni indigene. Andando un pochino più poi, andando un po' anche a elencare quali sono le conseguenze di questo progetto, quali sono? Da un lato appunto il Messico, come ben sappiamo, è un paese attraversato da grossissime carovane migranti, da grossissime carovane migranti in cui la maggior parte poi di quella che è la popolazione migrante si ferma al confine tra Messico e Stati Uniti. Per cui appunto, come dicevo prima, abbiamo da un lato la costruzione di poli industriali, tra l'altro le popolazioni stesse non sanno che tipo di poli industriali verranno costruiti. Per cui c'è appunto uno, vengono tolte queste terre, poi andrò meglio a descrivere anche questo tipo di processo per una costruzione di un qualcosa che non si sa effettivamente poi che cosa sarà. Però per ora intanto noi togliamo le terre e poi eventualmente vi diremo che cosa ci vogliamo mettere. E chiaramente si vede anche in questo un progetto, come dire, di sfruttamento di tutta quella popolazione migrante che non riesce ad attraversare il confine e che può quindi invece poi essere sfruttata all'interno di tutti questi poli industriali che verranno costruiti. Vediamo in questo progetto anche comunque una ricerca da parte degli Stati Uniti, chiaramente in questo momento all'interno di una crisi anche proprio di egemonia. All'interno di questo progetto una ricerca da parte degli Stati Uniti di ricercare, di ritrovare quell'egemonia in contrapposizione a quella che è l'egemonia cinese. E su questo l'esempio più lampante è quello del gasdotto di cui parlavo precedentemente. Scusate, io vado anche un pochino velocemente perché poi i tempi sono stretti, però eventualmente, come diceva Mattias, poi c'è assolutamente tempo per le domande e per ulteriori chiarificazioni o per andare più nel dettaglio. E poi altra forte conseguenza della costruzione del corredore interoceanico è la militarizzazione dei territori, perché appunto, come andremo a descrivere in seguito, le popolazioni indigene stanno resistendo, stanno resistendo coi denti, con tutte le forze che hanno, a quella che è effettivamente la spogliazione di quella che è la loro vita, che sono i loro territori, che è la loro cultura, che è quello che poi effettivamente li rende comunità. Per cui si vede appunto un aumento della militarizzazione di tantissimi tipi poi, no, di forze dell'ordine all'interno di questi territori, di conseguenza una fortissima repressione, ma anche un aumento della violenza da parte di questi militari, soprattutto anche di una violenza di genere, violenza di genere che si vede anche, ci raccontavano, nel fatto che in tutte queste costruzioni, in tutti questi cantieri c'è un fortissimo aumento di quello che è la mododopera umana, un aumento di operai anch'essi che poi vanno effettivamente a commettere violenze di genere sulle donne indigene. Quindi, il corredore interoceanico. Noi abbiamo anche pensato di, volevamo anche portare due esempi di due comunità che abbiamo visitato durante la nostra carovana. La prima è Puente Madera, che è stata una delle prime comunità che abbiamo visitato, dove appunto abbiamo effettivamente visto che cos'è lo spogliamento, il rubare, nel vero senso della parola, le terre alle popolazioni indigeni, perché ci raccontavano molto bene come appunto le loro comunità si basano sull'esperienza di quelle che sono le terre comuni, che sono delle terre che tendenzialmente non sono di proprietà di nessuno, cioè quindi esce molto da questa idea, da quella idea capitalista di proprietà privata. Ecco, questa non è proprietà privata, sono delle terre che sono della comunità, che sono delle popolazioni, per cui sono delle terre che non possono essere vendute, sono delle terre per cui nessuno può mettere una firma su un contratto per vendere queste terre. Eppure questo sta succedendo, sta succedendo attraverso tutta una serie di meccanismi che sono messi in campo dal governo, ma dalle compagnie stesse, con i quali appunto la popolazione indigena viene letteralmente ingannata con trucchi, ad esempio utilizzando banalmente anche lo spagnolo, per cui molte persone parlano poco, parlano male comunque lo spagnolo, perché parlano la loro lingua, la loro lingua indigena, per cui non capiscono realmente, non c'è una reale comprensione di quello che si sta firmando, e con, come dire, con la promessa di ricevere del denaro in cambio, vengono vendute delle terre, ma questi sono chiaramente dei contratti che non valgono nulla, eppure appunto il corredore interosseanico si sta basando di base su dei contratti che sono falsi, che non possono essere firmati da nessuno, perché non sono di nessuno, non sono di nessuno queste terre. Per cui appunto Puente Madera è una comunità in cui abbiamo effettivamente trovato una comunità resistente, una comunità che crea degli spazi di autonomia, in contrapposizione a quello che è l'avanzare di questa modernizzazione, che si basa tra l'altro poi su delle necessità che non esistono, perché appunto ci spiegavano anche molto bene che non è che gli faccia schifo se poi certi servizi vengono effettivamente portati, ma chiaramente si parla di malgoverno, per cui il malgoverno di certo non è interessato a portare la sanità, a portare le bollette, scusate, a portare l'elettricità, e a portare appunto tutti quelli che sono effettivamente poi dei servizi basici. E quindi, come dicevo prima, anche i campi eolici che abbiamo visto veramente sterminati, campi eolici con delle paleoliche altissime, tra l'altro la cui manutenzione è fatta assolutamente male, per cui c'è anche un doppio inquinamento. E lì che cosa ci raccontavano? Ci raccontavano che da un lato si hanno dei campi eolici che producono tantissima energia, tantissima energia elettrica, che però questa energia elettrica non è per le popolazioni, anzi le popolazioni indigene pagano delle bollette altissime, per cui da lì è nato anche un movimento contro il pagamento delle bollette stesse, perché appunto da un lato mi toglie addirittura il territorio, il terreno su cui si basa tutta la mia esistenza e devo anche pagare delle bollette altissime. E poi un'altra comunità che abbiamo visto sempre, attraversando i territori in cui dovrebbe passare il corridore interoceanico, è quello di Terre Libertad, anche qui una comunità piccolina, erano circa 15-30 persone se non sbaglio, che è riuscita a resistere, sta riuscendo a resistere, ha fermato per, quando siamo passati noi erano ormai 60 giorni, che stava bloccando i lavori del corredore, del treno di uno dei lavori appunto di quello che è il corredore interoceanico. Stava resistendo come? Avendo costruito appunto un presidio che ha letteralmente bloccato, per cui si vedeva proprio la costruzione della rotaia che finiva e dopo di essa non c'era nulla. Tra l'altro hanno tolto i macchinari, agli operai, quindi c'è un vero lavoro di resistenza da parte di queste comunità. Comunità che appunto l'obiettivo della carovana, come dicevo prima, era quello di metterle effettivamente in dialogo tra loro per poter portare avanti questa battaglia. La nostra carovana quindi si è sviluppata, è andata più verso il sud, ecco. In questo passaggio tra le due opere ci siamo fermati in quella che è la comunità di El Bosque, in cui anche lì siamo andati a visitare una comunità in cui abbiamo visto veramente con i nostri occhi quello che è l'aumento del livello del mare, per cui siamo arrivati in questo villaggio in cui circa 20 case ormai non esistono più, sono state letteralmente mangiate dall'aumento del livello del mare e tra questo vi è pure la scuola, per cui ci siamo ritrovati anche lì a dialogare con una comunità che in questo momento sta chiedendo al governo di essere dislocata, di essere spostata in un altro luogo, chiaramente tutti e tutte insieme, e che non sta ricevendo nessuna risposta. Questo di nuovo ha esempio di quali sono effettivamente le priorità di un governo e qual è effettivamente la modernizzazione secondo questo governo. E passo quindi, scusate, devo un pochino tagliare, a quella che è la seconda grande opera che sta toccando il Messico e che appunto dovrebbe portare la cosiddetta modernizzazione che è il Tren Maya. Il Tren Maya, che è un treno che dovrebbe collegare Cancun e Palenque, è un treno turistico tendenzialmente, è un treno fatto per portare un maggior numero di turisti appunto in quello che è il sud-est del Messico. Per cui anche qui di cosa parliamo? Parliamo di, tra l'altro, processi che a Venezia vediamo molto bene, no? Quindi parliamo di turistificazione, parliamo di sfruttamento di quello che è la cultura, la cultura maya. Tra l'altro ci parlavano anche, come dire, di una monopolizzazione della cultura maya, nel senso che nel momento in cui viene brandizzata, viene mercificata la cultura maya, ecco che vengono anche eliminate tutte le altre culture che in realtà fanno parte del territorio da un lato, ma dall'altro lato anche questo che cosa provoca. Provoca appunto in realtà la perdita di questa cultura, perché si va a, come dire, sottolineare, a enfatizzare tutta una serie di aspetti di questa cultura a discapito di altro. Chiaramente tutti quegli aspetti della cultura che possono essere, come dire, più appetibili al turista e quindi alla vendita del luogo stesso. e tra l'altro parliamo quindi di un treno che passa in mezzo alla selva, passa in mezzo alla selva e letteralmente la taglia in due. E in questo caso, come dire, quello che abbiamo sentito più fortemente, chiaramente anche nel caso del corredore interoceanico, è che si parla non solo, come dire, di un esproprio del terreno, della terra, delle popolazioni indigene, ma dell'esproprio di quello che è effettivamente, come dire, il cuore pulsante della collettività. Perché parliamo, è quasi difficile, secondo me, per noi, anche per me, devo dire, riuscire a riportarlo, no? Perché è un qualcosa che, secondo me, come dire, in Occidente abbiamo molto, abbiamo perso, ovvero quel legame con il proprio territorio, il legame con la natura, che fa sì che tu sia comunità, che tu sia collettività, che è parte di te. Cioè, quello che abbiamo sentito la maggior parte delle volte era che anche il taglio di un singolo albero fa male, ma fa male un dolore quasi fisico, ecco. Chiaramente non sono io la persona più giusta per poterlo raccontare, sarebbe bello che ci fosse qualcun altro per poterlo raccontare, però spero di aver, come dire, di essere riuscita a trasmetterlo, perché è un qualcosa che veramente si sente profondamente. Appunto, abbiamo visitato, in questo caso, quello che era il centro comunitario Maya, un esempio, comunque, di semi-autonomia, in questo caso, no? Abbiamo visitato quello che è l'esquelita, dove si insegna la cultura, i saperi Maya, la tradizione, la medicina, dove appunto questo legame tra terra e comunità è estremamente forte. Ricordavamo prima la presenza, insomma, di un murales che effettivamente, come dire, visimamente spiegava molto bene questo collegamento tra, come dire, le generazioni ancestrali, le generazioni precedenti, la generazione odierna e quella che è effettivamente il territorio. E subito dopo essere stati lì, subito dopo avere effettivamente, come dire, cercato di capire questo collegamento così forte, siamo andati effettivamente a vedere quelli che sono i lavori del tren Maya, per cui ci siamo ritrovati in un buco, letteralmente in un buco in mezzo alla selva, dove ci dicevano dove una volta correvano i giaguari e dove abbiamo effettivamente visto anche le reazioni di quelle che erano le altre popolazioni indigene, quindi non quelle del luogo, ma quelle che venivano da altri luoghi che abbiamo attraversato con la carovana, abbiamo effettivamente sentito anche noi questo sentimento estremamente forte. e vado a chiudere, scusatemi, e appunto come diceva come diceva Mattias, la nostra carovana si è infine conclusa a San Cristobal con l'enquentro internazionale al quale hanno partecipato appunto circa mille persone, 40 differenti discendenze indigene, da 30 paesi di tutto il mondo, in cui devo dire che ci sarebbe anche qui tantissimo da raccontare, però chiaramente c'è stata una, chiaramente no, però c'è stata una fortissima presa di posizione contro ogni guerra e contro quello che è il capitalismo neoliberale e soprattutto una risposta ad esso che è appunto la costruzione di autonomie, quindi non rimanere immobili davanti alla violenza dello Stato e del capitale, ma rispondere costruendo spazi di autonomia cercando sempre maggiormente di unirsi tutti e tutte insieme chiaramente da sinistra e dal basso. Grazie.